Il lavoro è stato autorizzato e seguito sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica delle Belle Arti e Paisaggio di Siena, Grosseto e Arezzo ed è eseguito da restauratori qualificati per il lapideo e gli affreschi. Al via il restauro del portale meridionale della Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, il più antico e simbolico del Duomo di Arezzo. Un intervento resosi necessario in quanto a causa della vetustà e degli agenti atmosferici l'arenaria si stava sgretolando. L'intervento è stato reso possibile grazie alla sensibilità di ANCOS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo. È un intervento importante perché è un dono alla comunità, è un dono alla Cattedrale, alla Diocesi ma a tutta la comunità cittadina che è attenta alla dimensione culturale e artistica dei nostri beni. Confartigianato ha segnalato ad ANCOS la necessità di intervenire per riportare, non dico a nuovo ma comunque rimettere in sesto questo portale. È proprio per vocazione che ANCOS spende i soldi del 5 per 1000 per recuperare le opere d'arti che altrimenti andrebbero in rovina. Nell'occasione viene restaurato anche l'imponente e antico portone Ligno. Vorrei ringraziare l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive e poi Graziella Braccialini che consente l'intervento sul portone.